Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi amici di Radio Domina Nostra, bentrovati a tutti voi. Cominciamo questo nostro ciclo di catechesi intorno ai Vangeli dell'infanzia che hanno lo scopo di prepararci come testi del Vangelo alla Natale del Signore. Iniziamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo o vergine gloriosa e benedetta. Ecco, allora oggi è il quinto giorno, sesto della novena d'Immacolata e il 4 dicembre, pertanto mancano 21 giorni al Santo Natale del Signore e a partire da questa sera, Dio piacendo, vogliamo prepararci come avevamo fatto in quaresima con i racconti della passione del Signore che ho raccolto in un libro, anche al Natale del Signore con una serie di catechesi e di meditazione sui racconti dei Vangeli cosiddetti dell'infanzia di Gesù. Allora vorrei subito fare un'introduzione di queste catechesi che iniziano questa sera e poi andare al testo di questa sera che inizio a meditare. Non so se avrò il tempo di finirlo tutto questa sera, penso di no, perché mi conosco. Poi qui sono circondato da una valanga di libri, fra un po' ci sarà una sorta di tsunami librario nei miei confronti. Allora iniziamo con l'introduzione. Quando noi facciamo il presepe, quando noi facciamo il presepe in casa, e vi raccomando di farlo, ci dispiace per questo povero sacerdote di nome Don Luca Favarin che già con i capelli lunghi e con quel modo così disinvolto di indossare abiti secolari già dice tutto di sé e che ha detto di non fare il presepe, ma si faccia musulmano. Io faccio una raccomandazione a tutti, invitiamo questo Don Luca Favarin a cambiare religione. Visto che lui non vuole fare il presepe per rispetto degli immigrati, invitiamo Don Luca, Don Luca fatti circoncidere e diventa imam musulmano a cantare i versetti di Allah sui minareti delle moschee, che noi tutti saremo piuttosto contenti di questo tuo cambiamento, visto che rinneghi le radici cristiane. Detto questo, torniamo al nostro tema, non farò più nessuna puntata nei confronti delle assolute stravaganze, degli accecamenti totali cui Dio sottopone gli uomini di chiesa del nostro tempo che non hanno voluto ascoltare gli appelli della Madonna. Andiamo a noi. Dunque, quando noi facciamo il presepe, cari amici, e poi lo guardiamo, troviamo diversi personaggi, tra cui il protagonista per Antonomasia che è Gesù Bambino, no? E che bisogna sempre metterlo, come a me è stato insegnato fin da piccolo, bisogna metterlo nel presepio Gesù Bambino la notte di Natale. Mi ricordo quando ero piccolo a casa mia, non so se lo sapete, io sono gemello, allora quasi quasi di nascosto io andavo a cercare la statua di Gesù Bambino perché volevo metterla subito nel presepio, ma i miei familiari mi ricordavano che andava messo proprio, mi ricordo che mettevano il cotone idrofilo, lo coprivano la culla in attesa proprio della notte di Natale. Quindi Gesù Bambino al centro, perché è lui il protagonista, tutto il resto ha senso perché c'è lui, c'è Gesù di Nazareth, Gesù Cristo, il Messia, il figlio di Dio, il verbo del padre che si fa carne, ecco. Poi accanto a lui troviamo San Giuseppe, nel mio presepio era rappresentato con la lanterna, perché nella grotta era al buio e quindi non c'era molta luce. Poi troviamo soprattutto la Santa Vergine Maria, non so se nei vostri presepi, e scusaci Don Luca Favarin se facciamo questa introduzione, ormai siamo al ridicolo, alle commedie di Totò, perdonaci se stiamo parlando del presepio. Allora dicevo, non so nei vostri presepi, ma nel mio presepio, quando ero piccolo, perché adesso non mi sono scordato a prenderlo, ma se voi mi permettete un attimo lo vado a prendere, aspettate che arrivo subito. Eccolo qui, preso, eccolo, arrivo, eccoci qui, me l'ero scordato. Nei presepi notate la Santa Vergine Maria, questo lo tengo io sempre però, non solo a Natale, ma durante tutto l'anno liturgico, durante tutto l'anno, perché il presepio, il Natale, è uno dei momenti molto forti della vita della Chiesa. Vedete che San Giuseppe appunto, non so se anche qui, sì guardate, tiene la lanterna, quindi allora è una cosa molto diffusa, vedete? Tiene la lanterna accesa, però la Madonna è rappresentata in ginocchio. Ecco perché? Perché è la prima adoratrice, la prima adoratrice del Verbo incarnato. Lei che lo partorisce, la Madonna che lo partorisce, però è anche la prima adoratrice di Gesù Bambino. Eccoli qui. Ecco, quindi facciamo i presepi. Poi dopo San Giuseppe e la Madonna ci sono gli angeli, ci sono i pastori, ci sono i re maggio, insomma tutti i protagonisti del presepio. La domanda che dovremmo porci è, ma facendo il presepio appunto, da dove attingiamo notizie circa il Natale del Signore? Cioè i personaggi, noi, vabbè, lasciamo stare Giuseppe, Maria e soprattutto il Bambino Gesù, ma tutti gli altri, da dove li prendiamo? Ecco, la risposta sta nei cosiddetti Vangeli dell'infanzia, si chiamano così. Perché si chiamano così? Si chiamano Vangeli dell'infanzia, innanzitutto quali sono? Si chiamano Vangeli dell'infanzia, come noi abbiamo i Vangeli della Passione, che abbiamo, se vi ricordate, meditato durante la quaresima scorsa e ne è venuto fuori un libro dal titolo Liamosino alla fine. Qui verrà fuori anche, se Dio vorrà, un altro piccolo libro dal titolo Il Verbo si è fatto carne. Dunque, si chiamano Vangeli dell'infanzia, le sezioni, attenti bene, dei primi due capitoli di Matteo e dei primi due capitoli di Luca. Dunque, tutto quello che noi vogliamo sapere sul Natale di Gesù, sul Natale del Signore, facendo il presepio, dove lo attingiamo? Ricordiamocelo molto bene questa sera, poi se volete prendete appunti, così vi fate una buona preparazione teologica e spirituale biblica, li prendiamo dal capitolo 1 e 2 di Matteo e dal capitolo 1 e 2 di Luca. Lo ripeto, questi capitoli 1 e 2 di Matteo e 1 e 2 di Luca si chiamano Vangeli dell'infanzia. Perché si chiamano così? Perché raccontano gli esordi della vita di Gesù. Quali sono i passaggi fondamentali? Questa è sempre, ripeto, tutta l'introduzione. Sono l'annuncio, quindi gli annunci vari. Quali annunci abbiamo? Abbiamo anzitutto l'annunciazione a Maria, nel Vangelo di Luca, in cui l'Evangelista racconta che l'Arcangelo Gabriele viene mandato da Dio alla Madonna, se vuole accettare, lei dice eccomi sono la serva del Signore. Poi ancora prima abbiamo l'annuncio a Zaccaria della nascita di Giovanni il Battista, poi abbiamo ancora l'annuncio ai pastori, quando Gesù nasce, poi abbiamo ancora l'annuncio a Giuseppe in sogno, insomma ecco gli annunci. Poi c'è la nascita virginale di Gesù, questo tema del concepimento virginale e della nascita virginale di Gesù, per quelli tra di voi che vorrete seguirmi fino in fondo, sarà una componente fondamentale dei Vangeli dell'infanzia, come vedremo. Nascita virginale di Gesù, l'adorazione dei Maggi, la presentazione al Tempio e poi soprattutto la tentativo di Erode di uccidere Gesù, la fuga in Egitto e il ritorno, l'ultimo episodio dei Vangeli dell'infanzia, come spero sappiate, riguarda lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Ecco, gli altri due Vangeli, perché i Vangeli sono quattro, abbiamo detto che i Vangeli dell'infanzia sono in Matteo capitoli 1 e 2 e in Luca capitoli 1 e 2, mentre gli altri due Vangeli, e cioè Marco e Giovanni, non parlano del presepio, del Natale del Signore. Perché non ne parlano? Perché Marco, l'evangelista Marco, fa iniziare il Vangelo con la predicazione di San Giovanni Battista, cioè quando tu apri il Vangelo di Marco subito ti trovi Giovanni Battista, Giovanni Battista che urla. Gli inizi, gli esordi del Vangelo di Marco sono esordi gridati, urlati, ecco perché? Perché viene fuori il Battista che dice preparate la via del Signore. E poi Gesù compare nel Vangelo di Marco già adulto, trentenne, quindi non ci sono i Vangeli dell'infanzia, mentre Giovanni, Giovanni dopo il prologo che è l'ouverture straordinaria del Vangelo di Giovanni del quarto Vangelo, presenta subito dopo il prologo subito anche lui Giovanni Battista adulto e anche Gesù grande ormai con gli Apostoli che va alle nozze di Cana. Quindi i racconti della nascita di Gesù sono presenti, lo ribadisco perché lo impariamo a memoria nei capitoli 1 e 2 di Matteo e 1 e 2 di Luca, i primi due capitoli di Matteo e i primi due capitoli di Luca. Tutto quello che vogliamo sapere sul Natale lo troviamo nel capitoli 1 e 2 di Matteo, nei capitoli 1 e 2 di Luca. I racconti della nascita di Gesù, e questo è un altro passaggio, e della sua infanzia, quando era piccolo, quando era bambino, quando era adolescente, prima che diventasse adulto, non sono però il primo resoconto scritto, cioè i Vangeli non nascono per raccontare il Natale, ma i Vangeli nascono prima di tutto per raccontare la Pasqua. Questo è molto importante. Cioè i quattro Vangeli si concentrano prima di tutto e sopra ogni cosa sul racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù. Solo più tardi, solo più tardi, i primi credenti, i primi battezzati, cominciavano a domandare agli Apostoli, pensate all'Apostolo Pietro, a Giovanni, a Giacomo, a Filippo, a Bartolomeo, ma insomma com'era legittimo, cominciavano a domandare, ma Gesù com'è venuto al mondo? Dov'è nato? Com'è nato? Che cosa c'è stato quando è nato? Capite? Cioè non sono state le prime domande queste, la prima domanda è ci ha salvati Gesù Cristo? Come? Morendo in croce vengono raccontati i racconti della passione. Però ripeto, tardivamente viene fuori questa domanda, ma dove è nato Gesù? Insomma, per farvela capire questa cosa detta tra di noi, è come quando due persone si innamorano, no? Io sono prete, quindi queste cose le so molto bene, ma prete, se me lo lasciate passare, è vero che sta con la gente. Quando due giovani si innamorano, si fidanzano, si conoscono sulle cose immediate, però poi piano piano c'è quella che si chiama una esplorazione dei contenuti. Dove sei nato? Soprattutto la fidanzata vuole sapere, la donna vuole sapere dove sei nato, cosa hai fatto, chi eri, chi sono i tuoi genitori, capite? Perché c'è una appropriazione dell'amato. Che bello questo, che bello pensare che i Vangeli dell'infanzia, attenti bene cari amici, nascono perché la prima comunità cristiana è così innamorata di Gesù come una donna innamorata del suo uomo, che vuole sapere, dopo averlo conosciuto direttamente, dove è nato, come è nato, gli antefatti della nascita. Non vi pare molto bello questo? Io lo trovo splendido. Quindi i Vangeli dell'infanzia sono frutto della, diciamo così, non so come dire, dello sguardo amante dei primi cristiani che, innamorati di Gesù, volevano sapere dove e come e in che modo Gesù era nato. Ecco. E quindi i primi credenti cominciano a domandarsi, dopo avere saputo la cosa più importante che c'è, Gesù è morto in croce per noi, ci ha salvati, ma come è venuto al mondo però Gesù di Nazareth? Come, dove e in che modo? Queste sono le tre domande fondamentali cui rispondono i capitoli 1 e 2 di Matteo e 1 e 2 di Luca, i cosiddetti Vangeli dell'infanzia. Cioè come, dove e in che modo è nato Gesù? È così, è così. Matteo e Luca, quest'ultimo ascoltando, come dice la tradizione, dalla viva voce della Madonna, perché sapete che la tradizione vuole, lo ripeteremo più volte, che Luca abbia scritto il suo Vangelo ascoltando i racconti dell'infanzia di Gesù da parte della Madonna. È credibile questa cosa? Gli esegeti contemporanei che mancano quasi tutti di fede dicono no, figurarsi. Invece la tradizione dice che invece sì, e invece sì, cari amici, guardate che la maggior parte delle notizie che noi possediamo a riguardo dei Vangeli dell'infanzia vengono dalla viva voce della Madonna. Lei ha custodito, la Madonna ha custodito quello che è accaduto a Natale, prima di Natale e col Natale, e poi dopo poco per volta ha voluto presentare soprattutto all'evangelista Luca quello che è accaduto, ecco, dalla viva voce della Madonna, capite figli cari? E allora Matteo e Luca hanno messo per iscritto le notizie e i dettagli più significativi, quello che loro, secondo le loro prospettive, come vedremo, hanno ritenuto fondamentale per noi credenti che sapessimo a riguardo non solo della missione pubblica di Gesù e soprattutto della sua passione morte e risurrezione, ma anche a riguardo, ancora più significativamente, degli esordi. Appunto, tenete presente quello che vi ho detto, il criterio dell'innamoramento. Quando ci si innamora si ha bisogno di sapere della persona amata tutti i dettagli, non subito, ma piano piano la persona innamorata si appropria dei dettagli dell'amato. Bene, allora Matteo e Luca hanno messo per iscritto le notizie e i dettagli più significative. Dunque, i cosiddetti Vangeli dell'infanzia, lo ribadisco, scusate, ma io sono fatto così e mi è stato insegnato questa cosa qui e la faccio con voi. Dunque, i Vangeli dell'infanzia, cioè i capitoli 1 e 2 di Matteo e 1 e 2 di Luca, sono una lettura più tardiva riguardo al Natale del Signore. Possiamo far nostra la sintesi posta all'inizio del più celebre testo, a mio avviso, sui Vangeli dell'infanzia. Eccolo qui, questo testone qui, questo librone qui di René Laurentin, che si intitola appunto I Vangeli dell'infanzia di Cristo, sottotitolo La verità del Natale, la verità del Natale al di là dei miti. Ecco, e possiamo prendere come buono, all'inizio di questo nostro percorso introduttivo, quello che scrive René Laurentin, scomparso di recente, mariologo di fama mondiale, che però ha scritto questo libro, che forse è il più importante della sua produzione, e cioè I Vangeli dell'infanzia di Cristo. Che cosa dice René Laurentin? Ascoltate bene, dice così nel suo testo. Matteo 1 e 2 e Luca 1 e 2, quindi i primi due capitoli di Matteo e Luca, che sono appunto i racconti del Natale del Signore, dice René Laurentin, innovano rispetto all'evangelizzazione primitiva, cioè il Kierigma, che cominciava con il battesimo di Gesù. Quindi, attenti bene a quello che stiamo cercando di dire questa sera, stiamo dicendo che i Vangeli, le prime stesure scritte dei Vangeli, cominciano dal battesimo di Gesù per poi sviluppare i miracoli e la predicazione, e infine soprattutto la Pasqua, passione, morte e risurrezione di Gesù. Ma rispetto a questa evangelizzazione iniziale, per come vi dicevo io poco fa, in termini un po' più divulgativi perché lo capiste, i primi credenti, dice René Laurentin, hanno cominciato a chiedersi, sì, ma dove è nato Gesù? Le tre domande che ponevamo poco fa, che stanno alla base del presepio Don Luca Favarin permettendo, e non solo lui, e cioè dove, come e in che modo è nato Gesù. Allora dice René Laurentin, essi, cioè i Vangeli dell'infanzia, si spingono oltre per rispondere a domande sulle origini di Gesù Cristo. La domanda, dice René Laurentin, che noi ci porremo, anche noi, tutti quelli che vorrete seguire questo ciclo di catechesi, come ho fatto quelle sulla Passione del Signore, ora sul Natale del Signore, la domanda fondamentale è da dove egli, cioè Gesù di Nazareth, veniva? E questa domanda, come vedremo, è fondamentale. Complessivamente, allora, tra i primi due capitoli di Matteo e i primi due capitoli di Luca, che sono i Vangeli dell'infanzia, emerge il seguente schema. Ecco, adesso andiamo un po' più avanti. In Matteo troviamo tre sezioni narrative del Natale. Primo, genealogia di Gesù Cristo, che anche se alcuni studiosi, e tra questi Benedetto XVI, non so dove ho messo il suo libro, dove sei Papa Benedetto, visto che non parli, scompari anche dalla mia immagine. Oh Gesù, dove l'ho messo? Non lo trovo più. Eccolo qui, eccolo qui, il testo di Benedetto XVI dal titolo L'infanzia di Gesù. Ecco, alcuni commentatori dei Vangeli dell'infanzia, come Benedetto XVI, tacciano e omettono questa sezione della genealogia. Però noi sappiamo, fioli cari, che non siamo funghi. Quando noi cresciamo, non so se è capitato anche a voi, è capitato anche a me, noi generalmente ci chiediamo chi è il nonno, chi era il bisnonno, papà ma tu da dove vieni, chi erano i tuoi antenati, mamma ma chi sono i tuoi, capite? Ecco, allora anche a riguardo di Gesù Cristo è venuta fuori questa esigenza, ma lui era veramente il figlio di Davide? In che termini? Come? Soprattutto e particolarmente Matteo, come vedremo, risponde a questa domanda. Quindi in Matteo, nei capitoli 1-2 di Matteo, troviamo tre sezioni narrative che noi approfondiremo a Dio piacendo. Primo, la genealogia, Tizio generò Caio, Caio generò Simpronio, lo vedremo. Secondo, il concepimento di Gesù. Sono tre le sezioni narrative in Matteo. Il concepimento di Gesù, quindi il modo con cui Gesù è nato e soprattutto qui in Matteo troviamo, che bello vedere nel frattempo che c'è in primo piano la Madonna che adora Gesù bambino, questo è il Natale. Noi diventiamo adoratori di Gesù Cristo nonostante Don Luca Favarin, la falsa chiesa, ed Enzo Bianchi che dice che non ha senso inginocchiarsi davanti a Gesù di Nazareth. Noi con la Madonna e come la Madonna, prima adoratrice del verbo, ci inginocchiamo e adoriamo Gesù bambino, riconoscendo in lui il figlio di Dio fatto carne, et verbum caro factumest. Mi piace che si veda la Madonna in primo piano. Quindi è la terza sezione narrativa del Vangelo di Matteo Erode che cerca di uccidere Gesù ma non ci riesce e arrivano i re magi. Ecco queste sono le tre sezioni narrative del Vangelo dell'infanzia di Matteo. Li ripetiamo. Quali sono? E che noi approfondiremo. La genealogia, cioè chi sono gli antenati di Gesù, secondo il concepimento verginale di Gesù. Quando voi dite concepimento verginale di Gesù, doveste avere accanto in famiglia persone bergoiane, tenetele perché svengono appena sentono dire concepimento verginale di Gesù. Terzo, Erode che cerca di uccidere Gesù non ci riesce e arrivano i re magi. Queste sono fondamentalmente le tre sezioni narrative del racconto dell'infanzia nel Vangelo di Matteo e noi li approfondiremo. Nel Vangelo di Luca invece, che è più composito, più approfondito, anche se non proprio del tutto identico a Matteo, troviamo addirittura sette sezioni narrative. Va bene? Dunque, i Vangeli dell'infanzia sono capitoli 1 e 2 di Luca e capitoli 1 e 2 di Matteo. In Matteo troviamo tre sezioni narrative che abbiamo visto e invece in Luca troviamo sette sezioni narrative. Se volete potremmo dire sette quadri, va bene? Sette scene, sette episodi della infanzia, della vita iniziale di Gesù. Abbiamo detto poi anche che i Vangeli dell'infanzia nascono come esigenza dei primi cristiani innamorati di Gesù Cristo che vogliono sapere come è nato, dove è nato, in che modo è nato e così allora soprattutto Luca interpella la Santa Vergine Maria custode di queste vicende e la Madonna racconta a Luca come sono andato le cose. Vediamo quali sono i sette quadri narrativi di Luca. Abbiamo visto i tre quelli di Matteo, li ripeto, che sono la genealogia, il concepimento e la nascita virginale e poi Erode che lo vuole uccidere i Re Maggi. Vediamo i sette quadri narrativi dei Vangeli dell'infanzia nel Vangelo dell'infanzia di Luca. Primo, annunciazione del Battista, è più composito, sono sette, annunciazione del Battista, quindi la storia di Zaccaria che diventa muto, vi ricordate, nel Tempio e poi tutto quello che sappiamo. Secondo, annunciazione della nascita di Gesù. Se voi mi permettete, vorrei dire, quindi il Vangelo di Luca che racconta l'annuncio a Maria, che vorrei dire che probabilmente tra i sette quadri narrativi del Vangelo dell'infanzia di Luca e i tre quadri narrativi del Vangelo dell'infanzia di Matteo, che in tutto quindi diventano dieci, probabilmente insieme alla nascita a Betlemme, che è presente sia in Matteo che in Luca, l'altro quadro narrativo, non so se siete d'accordo, ma penso di sì, guardandola anche, che è in ginocchio davanti a Gesù che lo adora, l'altro quadro narrativo dei Vangeli dell'infanzia in assoluto resta senza dubbio l'annunciazione a Maria. Questo è il secondo quadro narrativo in Luca, ma sono sette. Quali sono gli altri cinque? Sono la visita di Maria Elisabetta, quindi il canto del Magnificat, la nascita del Battista, quarto quadro e l'imposizione del nome, quinto quadro la nascita di Gesù, ecco in assoluto il Natale proprio, il Natale del Signore con l'imposizione del nome, sesto quadro Lucano, la presentazione al Tempio, quindi il vecchio Simeone, la predizione di Simeone e infine l'ultimo, in assoluto ve l'ho già detto, quadro narrativo di Luca, lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio, il quinto mistero gaudioso, ecco perché il Rosario è veramente una, come diceva Giovanni Paolo II, un breviario evangelico, cioè noi sempre pregando il Rosario non facciamo che meditare sui misteri della vita del Signore, Gesù dodicenne che rimane nel Tempio di Gerusalemme, Giuseppe e Maria lo smarriscono per tre giorni, come tre saranno i giorni della passione, è un'anticipazione proprio del mistero pasquale. Complessivamente noteremo di frequente diverse analogie tra i capitoli 1 e 2 di Matteo e i capitoli 1 e 2 di Luca, ma anche non ha poche divergenze tra i due. Perché? Perché Matteo, l'evangelista Matteo che racconta il Vangelo dell'infanzia di Gesù Cristo, tende a dimostrare che egli è il Messia figlio di Davide che viene a completare le scritture. Perché? Ma perché il suo Vangelo Matteo, nel 70 d.C., Matteo e Luca scrivono per soppoco nello stesso periodo, Matteo il suo Vangelo lo scrive per gli ebrei, lo scrive per gli ebrei. Allora siccome gli ebrei conoscono l'Antico Testamento, Matteo come vedremo non fa che ripetere questo accadde perché si adempisse ciò che era stato detto, bellissimo questo. Tra l'altro siamo in avvento e ce lo sentiremo ripetere spesso. Ciò accadde, per esempio, no, per dirne una, l'angelo che dice a Giuseppe non temere di prendere con te Maria tua sposa e poi dice ciò accadde perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Se voi notate, Luca non è molto attento a sottolineare l'adempimento delle scritture, mentre Matteo sì perché scrive il Vangelo agli ebrei che vogliono avere chiaro che Gesù Cristo è il compimento delle scritture, mentre Luca, discepolo di San Paolo che scrive il Vangelo intorno al 70 dopo Cristo anche lui, scrive ai pagani che si convertono, capite? Non agli ebrei ma ai pagani che si convertono e così presenta Gesù Cristo soprattutto come il Salvatore universale degli uomini. Quindi nel Vangelo dell'Infanzia di Matteo, capitoli 1 e 2, con i tre quadri narrativi, Matteo ci presenta questo bambino nel presepio che è il compimento delle scritture, il Messia, l'Emmanuel, cioè il Dio con noi. Luca invece, nei capitoli 1 e 2, con i sette quadri narrativi, ci presenta Gesù Cristo, questo bambino nel presepio, come il Salvatore di tutti gli uomini. Noi seguiremo un percorso diacronico nelle nostre catechesi sui Vangeli dell'Infanzia, che io proverò a fare presso a poco quasi ogni sera, ci proverò, ecco. Cercheremo di seguire un percorso diacronico, cioè mentre iniziamo per esempio con la genealogia di Matteo, poi dopo anche approfondiremo l'Annunciazione in Luca, cioè faremo un salto continuo per non perdere di vista il percorso così come ci viene presentato. Occorre però subito dire due cose importantissime dopo questa ampia introduzione. La spada di Erode, che ha cercato di far fuori Gesù bambino, come vedremo, Erode emerge come questa figura spettrale, diabolica, seriamente coinvolta nelle forze del male per eliminare da subito il figlio di Dio, ecco questa spada di Erode si è nuovamente mossa contro Gesù bambino, quando il metodo storico critico lentamente è giunto alla conclusione affrettata che i Vangeli dell'Infanzia non siano frutto di verità storiche, ma verità di fede. Cioè che Gesù sia nato a Betlemme, ve lo dico a parole mie perché so che poi così le capite anche molto meglio alcune le cose, che cioè che Gesù che sia nato a Betlemme, che Gesù la stella cometa, che Gesù è i re magi, che la Madonna che vede l'arcangelo Gabriele e tutte quelle storie lì non sono realmente accadute secondo il metodo storico critico, ma sono frutto di verità di fede e fin qui ancora ancora ci potrebbe stare. Il problema è stato il passaggio successivo che si è mostrato del tutto dell'eterio ed è quello che oggi domina nel pensiero ufficiale. Cioè siccome ormai il metodo storico critico che viene insegnato nell'esegesi biblica nei seminari, negli istituti di teologia dice che non si può dire che siano fatti realmente. Mi ricordo quando sono stato in Terra Santa la prima volta ero diacono, sto parlando del 1998 o 99 e mi ricordo molto bene il prete di Milano, antesignano della falsa chiesa di Bergoglio, che dovunque andavamo diceva forse qui è accaduto questo però non lo sappiamo, forse è financo figlioli cari a Betlemme e al Santo Sepolcro che sono i luoghi più sacri. Mi ricorderò benissimo che ero gettato a terra a baciare la stella dove si dice ic natus est verbum dei, filius dei, non mi ricordo la parola esatta, e io ero lì che adoravo il mistero dell'incarnazione del verbo e al mio orecchio infastidito pervenivano le parole di questo povero disgraziato di prete che diceva non sappiamo esattamente se Gesù sia nato a Betlemme, cioè c'è questa ricerca storica che alla fine ha condotto ad un relativismo totale che è la piattaforma su cui si muove oggi la falsa chiesa. Persino figlioli cari quando siamo stati al Santo Sepolcro ero lì che piangevo a baciare la pietra tombale di nostro Signore Gesù Cristo risorto e quello lì dall'esterno con voce stridula diceva forse qui è stato sepolto il Signore ma i racconti della risurrezione sono, non sono racconti storici, sono racconti di fede. E sono le cose che vi insegnano quando siete così stupidi da continuare ad andare a messa una cum bergoglio, peggio per voi, cioè negano l'evidenza storica del figlio di Dio che si è fatto carne, capite? Ecco perché non vogliono più il presepe, perché non ci credono, perché per loro è roba stucchieva, questa per loro Don Luca Favarine non è che è, diciamo così, l'esponente più significativo della falsa chiesa che non crede più, che non crede più alla fattualità storica del Natale del Signore. Il problema è che per loro ci sono troppi angeli, troppe annunciazioni divine, troppi concepimenti verginali, troppa roba quindi indimostrabile concepimento verginale e parto verginale di Gesù in primo luogo, cioè pensare come di fatto è un dogma di fede che la Madonna ha partorito Gesù, vi pare che lo dicano più? Non lo dicono più i preti, i vescovi, i cardinali, sono tutti zitti. Io penso, figlioli cari, che un demone muto li possiede, c'è un caso di possessione diabolica diffuso, sono muti, muti, non ci credono più alle cose di fede, capito? E così alla fine dalla verità storica si è passati alla verità di fede, ma da questa si è giunti, attenti bene, al mito. Per moltissimi teologi del calibro di Walter Casper, diciamo teologi, di Enzo Bianchi, diciamo teologo, che si dicono cristiani, i Vangeli dell'infanzia con quelle storie di angeli che volano sulla capanna, stelle comete, re maggi, la donna che rimane vergine partorendo Gesù. Questi racconti sono paragonabili, né più né meno, secondo questi pseudo teologi della falsa chiesa, che ai miti greci e romani, dove si parla di concepimenti divini e di divinità che scendono sulla terra. Vale su tutto la dichiarazione di uno dei padri del metodo storico critico, Rudolf Bultmann, che diceva come noi che ormai nei nostri tempi sorvoliamo i cieli e usiamo la tecnica, non possiamo, diceva lui, negli anni cinquanta del novecento, continuare a credere che la Madonna, che Maria sia rimasta vergine, ma infatti i preti non ci credono più perché vengono indottrinati con questa falsa teologia, non possiamo più credere che gli angeli siano sorvolati sopra la grotta di Betlemme. Quanto c'è di pericoloso in questa posizione modernista? Questi neomodernisti, figlioli cari alla Don Luca Favarin, provano fastidio di fronte al preso, poi trovano pretesto col discorso dell'immigrazione contro Salvini, il presepio è un'offesa al multiculturalismo, sono solo pretesti, ve lo dico io qual è la verità. Questi, come se fossero posseduti da Satana, provano fastidio di fronte a questa evidenza qui, non la possono vedere, e diceva sono preti e non la possono vedere questa immagine, capite? Perché non ci credono, e siccome invece noi continuiamo a crederci, allora la vogliono togliere di mezzo, via, così, via, capite? Hanno perso la fede, come dice Geroni Masassu, hanno perso la fede. Ecco, quanto c'è di pericoloso in questa posizione modernista per cui il presepio è frutto di visione mitologica, di storie inventate dai primi credenti, che la Madonna è rimasta vergine, che quel bambino è Dio, che sopra la grotta c'era la stella cometa, che gli angeli cantavano gloria a Dio nell'alto dei cieli, e tutta roba per loro mitologica. Qui vorrei dire che è una lettura, vi ricordo che, vabbè, vi dico questo, che è una lettura attenta e devota, eh? Attenta, però devota, dei Vangeli dell'infanzia, i primi due capitoli di Matteo e di Luca, sono un ottimo antidoto al neo-arianesimo di Enzo Bianchi e della falsa chiesa oggi imperante. Questi non credono più che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Oggi circola la voce, la parola, questo, l'uomo della croce, state attenti, il Nazareno. Capite? Sono espressioni blasfeme, perché negano alla radice l'identità teandrica, cioè divina e umana di Gesù Cristo. Questo bambino qui, questo bambino qui, vediamo se si vede, eccolo, questo bambino qui con le braccia aperte come in croce, perché i nostri fratelli ortodossi rappresentano la, come vedremo, la grotta, oh mio Dio, è cascato un libro, rappresentano la grotta e c'è la grotta, la, la, la culla di Gesù come fosse già il sepolcro, per dire che il Natale è Pasqua, però anche noi cattolici ci siamo attenti a questo, no? Perché questo bambino che noi mettiamo nel presepio, eccolo qui, ha le braccine aperte e ci ricorda la croce, sulla croce Gesù ha le braccia aperte, per dire che lui, come diceva Sant'Alfonso Maria dei Liguori, è il figlio di Dio venuto sulla terra per salvarci, cioè il Natale è già Pasqua, ecco, e questo ci aiuta a combattere, cari amici miei, il neoarianesimo imperante, cioè la negazione della divinità di Cristo. Infatti, se Gesù non è Dio venuto sulla terra, l'incarnazione resta un mito che va sostituito con altre espressioni. Quali sono le espressioni? Guardate che io ho studiato su questo. Ecco perché il Natale a loro dà fastidio e non vogliono il presepio. C'è una campagna portata avanti dalla chiesa bergoiana per scalzare via il presepio. Ma vi ricordate la vergognosa rappresentazione scenica del presepio a Piazza San Pietro l'anno scorso. Blasfema! Quello non era Gesù Bambino e quella non era la Madonna, capite? Non lo sopportano perché questo bambino per loro è un bambino qualunque, non è il figlio di Dio. E infatti, ve ne do prova, il tema dell'incarnazione diventa un mito ellenistico di Censo Bianchi che va sostituito. Quali sono le espressioni che usano oggi nelle facoltà teologiche e nei seminari? E io sono venuto fuori, sono un mistero a me stesso, perché io sono venuto fuori da otto anni di seminari, in uno dei seminari più cattoprogressisti che esistano non solo in Italia ma nel mondo che è quello di Palermo e poi per giunta sono anche andato a studiare alla Gregoriana, capite? Ecco, quali sono le espressioni? Non parlano più di incarnazione, notatelo. Come Gesù non è il figlio di Dio ma è il profeta, il messia, l'uomo della croce, non esiste più l'incarnazione, esistono queste due espressioni usate da Enzo Bianchi, visibilizzazione di Dio, umanizzazione di Dio, capite? Purché non si usi la parola incarnazione. Ora, umanizzazione di Dio, visibilizzazione di Dio sembrano termini innocui, in realtà nascondono un'insidia eretica senza precedenti e cioè che per loro Gesù Cristo non è la seconda persona che ti ha fatto carne nel grembo di Maria ma è un uomo straordinario come può esserlo Maometto o Buddha. Allora, se Gesù Cristo non è Dio, se questo bambino con le braccine aperte che nasce a Natale per noi non è Dio, è fatto carne, allora, figlioli cari, è possibile avanzare nel sospetto che il concepimento virginale, l'annunciazione di Gabriele, la visita dei Re Maggi, gli angeli che volano nel cielo di Bethlehemle siano solo tecniche narrative e scogitate dagli evangelisti, non fatti realmente accaduti. Perciò, siccome non ci credono e siccome il presepio, purtroppo per Don Luca Favarin, è un emblema della nostra identità cattolica in Italia e siccome però nel presepio ci sono i Re Maggi, gli angeli che volano sul cielo, la stella cometa, eccetera, siccome loro non ci credono il solo vederlo, questo presepio, dà loro fastidio. Allora accampano pretesti di tipo multiculturalista, immigrazionista e così via, che servono solo a nascondere il disagio diabolico che la falsa Chiesa ha dentro di provare fastidio di fronte al presepio che narra plasticamente la nascita del figlio di Dio, perciò fatelo il presepio. Bene, allora, non è molto lontano del resto nel tempo quanto il cardinal Ravasi, ahimè, stimato biblista, ma che sia stimato la dice lunga sulla preparazione teologica dei poveri cattolici italiani, ha affermato a riguardo dei miracoli di Gesù, quali per esempio la moltiplicazione dei pani e la risurrezione di Lazzaro. Cioè Gesù ha moltiplicato veramente cinque pani sfamando cinquemila uomini senza contare, come dicono i vangeli, le donne e i bambini? E veramente Gesù ha richiamato in vita Lazzaro dopo quattro giorni dalla morte? Dice Ravasi, ma no, sono racconti simbolici, non reali, non è realmente accaduto questo che il Vangelo dice. Loro hanno raccontato queste cose qui adoperando e prendendo a prestito lo strumento, sono parole di Ravasi che è cardinale, è messo lì dentro quella struttura lì che è il Vaticano, che è come il Tempio di Gerusalemme dove non abita più la presenza di Dio, non abita più la presenza di Dio lì dentro. Sono il racconto della risurrezione di Lazzaro, la moltiplicazione dei pani, alla stessa maniera del concepimento verginale di Maria, tutto quello che non si può spiegare razionalmente, anziché essere accolto con la fede, come ci viene proposto da sempre, va dimostrato essere strumentario concettuale del mondo magico del vicino Oriente Antico. Quindi Gesù bambino che nasce adorato dai magi, adorato dai pastori con la stella cometa e gli angeli che cantano gloria a Dio nell'alto dei cieli, vale quanto la moltiplicazione dei pani e la risurrezione di Lazzaro. Non è vero niente, sono storie simboliche che nascondono altri messaggi. Ma allora, come direbbe quel sacerdote che ha scritto a Fon Balthas, ma se Gesù storico non è attingibile, il Cristo della fede è un'invenzione della prima unità cristiana, ma io per che cosa mi sono fatto prete? Capite? Io il presepio ce l'ho, come vedete, eccolo qui, guardate, è molto semplice il mio. Questo è il mio presepio, cosa volete? Io di questo dispongo, ma guai a chi me lo tocca, eh? Dovesse venire qui Don Luca Favarin faremmo a pugni a cazzotti, che fare a cazzotti qualche volta è evangelico, ve lo dico, perché San Pio X più volte ha fatto a cazzotti, se non mi credete andate a leggere la sua vita e vi accorgerete che i nemici li trattava come meritavano. Ecco, allora, noi, questa era l'ampia introduzione, spero di non avervi appesantito, ma era necessaria l'introduzione questa sera, infatti prevedevo che il primo testo della sezione narrativa di Matteo, e c'è la genealogia, la tratteremo a questo punto dalla prossima volta. Però volevo dirvi che noi, le ultime due o tre cose, noi in questo ciclo di catechesi sulla nascita del Signore, sul Natale del Signore, ci muoveremo secondo tre momenti ogni volta, come è avvenuto, d'altra parte, per i racconti della passione di Gesù. Quali sono questi tre momenti, queste tre percorrenze narrative? Primo, l'indagine, chiamiamola esegetica del testo, cioè noi andremo a vedere, a leggere e a scandagliare prima di tutto il testo biblico in esame, cioè i tre testi di Matteo e i sette testi di Luca. Dopo, sul testo, faremo una riflessione di carattere teologico, come già stasera vi sto dicendo. Terzo, carissimi, aggiungeremo un apporto, secondo me quello più bello, quello che vi piacerà di più, un apporto mistico e spirituale, come abbiamo fatto che racconti la passione con Maria Valtorta, Caterina Emmerich, Maria da Greda e altri mistici e mistiche che hanno dato dei apporti. Per esempio, pochi sanno che c'è un testo, non so se lo conoscete, di una suora del 1700, credo che sia Sor Cecilia Bai, che ha raccontato la vita di San Giuseppe come l'è stata rivelata per visioni mistiche. Naturalmente, questi della falsa chiesa, come non credono al Natale secondo la tradizione evangelica e quindi odiano il presepio e si inventano una visione neo-ariana del Natale, allo stesso modo provano fastidio nei confronti dei testi mistici. Provate, volete sapere, io ho fatto espense queste ore e ho verificato che è vero, volete sapere quando una persona è bergogliana? Provate a parlargli di Caterina Emmerich, di Maria Valtorta, di Maria da Greda, che sono patrimonio della chiesa, vi salteranno addosso, allora voi lì non avrete dubbi che hanno esibito la carta d'identità. Che però questi testi mistici hanno fatto la storia, capite? Fonbaltasar dice che la teologia spirituale mistica ha altrettanto diritto di cittadinanza nella teologia quanto quella dommatica e speculativa. Per esempio le considerazioni di Sor Maria Cecilia Bai a riguardo di San Giuseppe sono splendide perché, per esempio, una cosa che a me molto mi ha colpito, che vedo nelle vite dei santi, è che San Giuseppe, prima di andare sposo alla Madonna, oggi pensate, San Giuseppe ha avuto la missione di essere sposo di Maria, sposo, casto, Gesù in Maria Valtorta lo chiama il mio padre virginale, che bella espressione di San Giuseppe, il mio padre virginale. Ma San Giuseppe, figlioli cari, prima di andare sposo a Maria e prima di essere custode di Gesù, come lo chiama Giovanni Paolo II in uno splendido testo, Redentoris Cussos, è passato, come dice Sor Cecilia Maria Bai, attraverso prove notevoli della fede, cioè Dio lo ha purificato come Mosè, come Abramo, come i patriarchi, come gli ebrei nel deserto, c'è questo tempo di prova che prepara la missione, nessuno di noi può affrontare una missione, lo dico anche per esperienza personale, se prima non viene purificato, capite? Se prima non viene purificato. E quindi, accanto all'indagine del testo, alla riflessione teologica, poi aggiungeremo anche, come abbiamo fatto con i racconti della passione, l'apporto dei testi mistici e spirituali. Questi testi mistici e spirituali, tra l'altro, sono in grado non solo di assicurare la veridicità storica degli avvenimenti, cioè ce lo fanno gustare, il Natale noi lo gustiamo grazie anche a Maria Valtorta, per esempio, il primo volume di Maria Valtorta, o ancora trovo molto belli quelli di Caterina Emmerich, capite? Noi li gustiamo, proprio li gustiamo i racconti del Natale. Ecco, e a questo punto vi dico quali sono i nostri testi di riferimento. Ve li presento uno per uno, sono in tutto dieci, ce li ho qui con me e ve li voglio mostrare. E così, dalla prossima volta in poi, finalmente, potremo dopo questa prima puntata introduttiva, sui racconti così capiamo di che cosa stiamo parlando. Dalla prossima volta in poi, noi potremo entrare nello specifico della trattazione di Matteo, dei tre brani di Matteo e delle sette sezioni narrative di Luca. Quali sono i nostri testi di riferimento? Anzitutto, come ovvio, la Sacra Scrittura, i testi del Vangelo di Luca, capitoli 1-2, e di Matteo, capitoli 1-2. Poi, il secondo testo, ve l'ho già mostrato, eccolo qui, il secondo testo dei dieci che io adopero è quello di René Laurentin, morto, scomparso qualche tempo fa, all'età quasi di cento anni. Lui ha scritto questo testo con prefazione di Benedetto XVI, è il titolo dell'opera, è i Vangeli dell'infanzia di Cristo, sottotitolo, adesso capite perché c'è questo sottotitolo, dopo quello che vi ho spiegato, la verità del Natale al di là dei miti. Ma oggi noi stiamo tornando con Bergoglio e la falsa chiesa e con i vari Don Luca Favarin sparsi per l'Italia, al racconto del Natale come se fosse un mito. Terzo testo di riferimento, eccolo qui, un altro boss della questione, eccolo qui, guardate quanto è enorme questo testo, Raymond Brown. Quindi hanno voglia certi profili, certe realtà che io seguo, di venirmi addosso, contra factum non valet argumentum, ecco guardate qui che roba abbiamo, Raymond Brown, la nascita del Messia secondo Matteo e Luca, ecco ci riferiremo molto a questo testo qui. Poi quarto dei dieci testi, ve lo mostravo poco fa, eccolo, lo trovo molto importante, invito tutti a farvi questo regale o per Natale di Benedetto XVI, già Papa appunto, l'infanzia di Gesù. Qui troviamo tantissime opportune precisazioni di Benedetto XVI a riguardo delle deviazioni eretiche neo-ariane che da qualche tempo circolavano nella chiesa. Questo era il, credo, quarto volume. Il quinto volume sono due, un nome è cascato a terra e lo prendo, eccoli qui, sono tutti e due volumi di uno stesso autore che si chiama Alberto Valentini, è un monfortano, Vangelo dell'infanzia secondo Matteo, eccolo qui, Vangelo dell'infanzia secondo Luca, sottotitolo Riletture pasquali delle origini di Gesù. Ancora dei dieci volumi mi sono rifatto molto ad Ansurs von Balthasar, uno dei miei teologi preferiti e che è niente affatto eretico, come dicono certi circoli tradizionalisti che mostrano di essere presuntuosi e ignoranti perché si vede che non lo conoscono, anzi, Ratzinger Benetto XVI è stato molto amico di von Balthasar, ecco il terzo volume della teodrammatica. E poi andiamo sui testi un po' più sapienziali, gli ultimi quattro, più mistici, cominciamo con l'amico nostro di cui ho parlato nei giorni scorsi, chi è questo? Riuscite a conoscerlo? Eh? No? Ve lo dico io, Dondo Lindo Ruotolo, di cui abbiamo parlato per tre puntate di seguito. Lui ha scritto un commento, ve lo dicevo nel racconto della sua vita, un commento al Nuovo Testamento, qui c'è un commento, i quattro Vangeli, della casa Mariana Editrice Apostolato Stampa. Io raccomanderei a tutti di farvi questo regale di Natale, cercate su internet il numero telefonico di Napoli e prendetevi questo libro perché veramente offre preziosi e opportuni suggerimenti. Quindi questo è, abbiamo detto, Dondo Lindo Ruotolo. E poi i tre testi mistici che vi citavo, Maria di Gesù da Greta, questa suora del 1600 spagnola che racconta la vita della Madonna, Caterina Emmerich, vattela pesca, in mezzo a tutto questo, e infine al decimo posto Maria Valtorta, il Vangelo come mi è stato rivelato. Io ho letto tutti questi testi, per voi, alcuni in realtà li avevo già letti in passato, ma la maggior parte di questi, come Brown e Rorentin, li sto approfondendo adesso nei miei spazi liberi. D'altra parte io sono un po' disoccupato perché la falsa chiesa mi ha messo in cassa integrazione e quindi mi do da fare in altro modo. Ecco, ovviamente lungo la trattazione potremo adoperare anche altri testi. Così, accanto al rigore delle segesi e all'approfondimento teologico, aggiungeremo quello spirituale mistico per meglio gustare i racconti del Natale del Signore. Ecco, vorrei sempre che tenessimo presente l'immagine plastica di Gesù bambino con le braccia aperte perché lui è il Messia, il Redentore ed è la Madonna che lo adora. E trarre da questo insegnamenti per la nostra vita, insegnamenti per vivere cristianamente, vista l'apostasia dilagante che c'è oggi nella falsa chiesa per vivere cristianamente il Natale. Per ovvie ragioni di tempo, soltanto in modo saltuario, richiamerò le fonti patristiche. E per questa sera, carissimi, io ho concluso questa prima puntata delle catechesi sui Vangeli dell'infanzia. Sono contento perché non è andata via la linea questa sera. Sono contento perché ho spiegato che cosa sono i Vangeli dell'infanzia così adesso lo sapete. Sono contento perché così, spero domani sera o vediamo quando, potrò trattare finalmente la prima puntata che riguarda il racconto della genealogia di Gesù. Ognuno di noi nasce frutto di una storia paterna e materna. Allora ecco che Matteo, Luca no, non come Matteo, Luca ne parla più avanti al capitolo quarto, mentre Matteo inizia il suo Vangelo proprio con la genealogia di Gesù che approfondiremo nella seconda puntata delle nostre catechesi sull'infanzia del Signore. Domani mattina, non so esattamente l'orario, tenetevi pronti, ve lo farò sapere. Io ho letto in una sola serata il testo di Antonio Socci che per ora circola dal titolo Il segreto di Benedetto XVI perché è ancora Papa. In mezzo a tutti i libri che riguardano i Vangeli dell'infanzia mi sono dedicato anche un po' di lettura un po' più diciamo leggera. L'ho letto tutto d'un fiato e siccome per ora circolano molte considerazioni su questo testo, anche io domani voglio offrire a voi che mi seguite e non siete pochi, grazie a Dio, nonostante nascano nuove iniziative, voglio offrirvi una lettura personale sintetica di questo testo qui lo farò domattina, credo intorno alle 10, penso alle 10, sì alle 10 del mattino andrò in onda in diretta su Radio Domina per dirvi che cosa penso a riguardo di questo testo di Antonio Socci. E su tutti voi carissimi che avete avuto la pazienza di ascoltarmi sperando che sia stato troppo pesante invoco la benedizione del Signore per una notte serena un riposo tranquillo. In nomine Patris et Fili et Spiritus Santi, Amen. A domani, domani è l'altro giorno della novena dell'Immacolata e ci avviciniamo verso la festa dell'Immacolata alle 10 farò questa catechesi sul libro di Antonio Socci, vi auguro una notte serena e un riposo tranquillo. Viva Gesù e avanti con Maria.